There's no place I'd rather be Musica 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 A presto ragazzi ragazzi io sono Tito e siamo i nostri video Oggi ragazzi siamo qui Per fare il video Delle stazioni Perché ragazzi vi ricordo che Appunto il 4 dicembre Avevo aperto questo concorso Che riguardava in pratica Fare un video con me Chi vinceva poteva fare un video con me Che poteva essere una challenge, un vlog, un video su minecraft Una parodia Tutto quello che vi pareva Quindi oggi siamo qui per fare questa bella estrazione Vi ricordo che questa settimana usciranno 3 video Uno che oggi lunedì Uno mercoledì E uno venerdì Quindi ragazzi cominciamo subito A fare questa bella estrazione Questa cosa sarà un po' velocizzata Comunque per quelli che non hanno partecipato E che manco sapevano che c'era sto concorso Mi dispiace La prossima volta tranquilli Farò altri concorsi del genere Già mi stanno frullando per la testa Tante belle idee carine e cuccolose Allora Questo video In pratica questo concorso Riguardava di scrivere appunto Nei commenti L'hashtag Sivio per fare un video con me E molti 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 Hanno partecipato Quindi ragazzi cominciamo subito a contare Se ne manca qualcuno Ne salto qualcuno Ne metto uno in più Mi raccomando Ditemelo che C'è Lo faccio C'è lo aggiungo Lo rifaccio questo video Ok? Intanto vi dico Non contate Vale BMV Perché è il mio amico Ciao Vale Buonasera A te non ti conterò Perché vabbè E facciamo già i video insieme Quindi ragazzi Let's go A te non ti conterò allora ragazzi sono 42 commenti adesso andremo su andremo su random.org insieme così che potete vedere che non è una truffa ma stiamo facendo tutto quanto per per la vostra salute abbiamo detto che i partecipanti sono 42 quindi minimo 1 massimo 42 siete minuti per scoprire il numero 3, 2, 1 36, il numero 36 quindi se non mi sbaglio qua siamo al 42 quindi partendo dal basso quindi 42, 41 40 40, 40, 40 40 eh 32 raga 41, 41, 42, 41, 40 40, 40, 40, 39 raga il numero è 36 37 Raga il numero è 36 Stiamo per scoprire il numero 36 Questo è il 37 Mgsir33 Allora tu Carissimo mi Hai vinto questo concorso Di poter fare un video con me Vediamo un po' Ok vedo che sei attivo Che fai video ogni due giorni A quanto posso vedere Hai 21 iscritti Perfetto non c'è differenza Tra quanti iscritti hai Quindi caro mio Mgsir33 A proposito Fai anche video su Trollandia bellissimo A quanto vedo tu Sei il vincitore Quindi caro mio Mi raccomando Contattami su Skype Che sarebbe Silvia Oliver Tanto apparirà qua adesso E appariranno tutti i nomi Dove mi potrai contattare Non so se tu Pure su Youtube Raga pure su Youtube Per contattarmi su Youtube Per chi non lo sapesse Allora Si va Qui Si va sul mio profilo Quindi si va Sul mio nome Ok raga Andate sul mio canale Chi non è iscritto Prima di tutto Si iscrive Poi si va Poi si va Qua su informazioni Poi raga Scorrete E qui Tipo Ci sarà la scritta Scrivi messaggio Cioè ci sarà proprio la scritta Di scrivere un messaggio Quindi mi raccomando Caro mio Mg Mg Sir33 Ida 333 Ita Mi raccomando Qui ci sono tutti I nomi Adesso apparirà qua Una scritta Qua pure adesso Apparirà uno sfondo nero Con tutti i nomi Mi raccomando Skype È Silvia Olivier Tutto quanto Attaccato In piccolo Oppure su Facebook Sulla pagina Sivi Oppure Sul mio profilo Privato facebook silvia olivier oppure ancora su instagram su sibi trattino basso show trattino basso official contattami su uno di questi siti hai una settimana di tempo per contattarmi quindi mi raccomando contattami e vedo che 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 allora quindi mi raccomando contattami hai una settimana di tempo almeno se no se non guarda mi iscrivo pure se non riesci a contattarmi in una settimana di tempo mi dispiace ma devo fare un'altra volta il video devo assegnare a qualcun altro questo premio chiamiamolo così perché cioè io non sono una persona speciale però alcuni mi hanno chiesto e vogliono fare un video con me quindi per contattare un po' tutti ecco qui questo concorso quindi ragazzi congratulazioni a tutti quelli che hanno partecipato mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi seguitemi su tutti quanti i social quindi facebook instagram su anche su periscope che comincia a fare live se siete in un po' raggiungiamo almeno i 20 seguaci su periscope così comincia a fare delle live a manetta ogni giorno così random poi ragazzi voglio informare che a presto usciranno delle unboxing adesso non vi dico niente comunque ci saranno dopo natale quindi ci si pecca mercoledì con un prossimo video e niente ragazzi ma la giornata va ci vediamo al prossimo video ah beh spero che lo so qua qua ciao belli e mi raccomando mgsir333 ita contattami contattami qua tutti i nomi quindi vi saluto e vi lascio con questa schermata di tutti i miei nomi ehm si ehm ciao ciao ehm 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 non so che fare ehm ehm disiscrivo no dai scherzo ciao 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 ciao